Amici siamo con Leandra Pavore, allora lei è una scrittrice, una conduttrice, il tuo bel salotto sul canale 66 dove sei amatissima e seguitissima e ti lascio parlare un attimino dei tuoi progetti. Che bello, poi una donna che ti presenta così, più di così cosa vuoi della vita, è meravigliosa. Sì, il salotto di Leandra che va in onda su canale 65, è stata su Ode TV, su un'altra ventina di canali, amo scrivere, scrivo per passioni, storia di una vita, del libro di Leandra, ha avuto un buon successo e ne è di cosa dirvi, vi aspetto, guardate, seguitemi, è stato bellissimo stare qua alla Fashion Week. Ecco, quando possono seguirti i tuoi telespettatori e dove? Allora, il salotto di Leandra è su Facebook, ormai lo sappiamo tutti, c'è anche Lea TV, poi sono su Instagram, Leandra Pavore. Va bene, grazie, grazie mille, grazie.